ecco siamo qui buonasera a tutti qui da Via Guadagno ci sono Michele eccomi qui Dettore Elio e il sottoscritto Fiore che sta vi sta facendo qualcosa ecco firma Fiore firma ecco Michele ecco se ne vanno girano è partita una sospensione guardatela guardate la sospensione di partita ecco sono usciti a picchiarci Michele commenti a freddo su quello che è successo è andato benissimo benissimo è andato Michele l'hai buttato nel canarone? si tutto nel canarone Elio commenti a freddo anche tu siamo arrivati questo è tutto qui da Via Guadagno è tutto vive la regia grazie grazie ciao